Torna a Polla per il secondo anno consecutivo il trofeo Cycle Fevian, un appuntamento ciclistico organizzato da Fevian Group in collaborazione con l'associazione sportiva Ciclo Team Tanagro. Si svolgerà domenica 19 maggio in contrada Sant'Antuono nella zona industriale di Polla, proprio nello spazio antistante lo showroom di Fevian Sposa. L'obiettivo è diffondere l'amore per il ciclismo, regalare un'occasione sportiva importante ad atleti anche giovanissimi e promuovere il territorio. La gara, infatti patrocinata dalla regione Campania e dal comune di Polla, si svolgerà su un percorso che per i più piccoli partirà da contrada Sant'Antuono e si svilupperà a lungo via Pantano per un chilometro e mezzo, mentre per i più grandi toccherà anche Atena Lucana Scalo, San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio. In mattinata alle 8 è prevista l'apertura della segreteria con la verifica delle tessere e la consegna dei dorsali. Poi alle 10 inizieranno le gare per la categoria giovanissimi, suddivisa per anno dal 2007 al 2012. Nel pomeriggio alle 15 invece è prevista la gara per la categoria esordienti anno 2006-2005, valida quale prova per la qualificazione al campionato italiano della categoria, in programma poi il 6 e 7 luglio in Toscana. Le premiazioni si svolgeranno alle 12 e 30 per le gare della mattina e alle 17 per quelle del pomeriggio. Una festa dello sport, quella di Polla dunque, che si concentrerà nell'ampio piazzale Fevian, tornando a dare lustro al ciclismo che nel Vallo di Diano ha saputo ritagliarsi uno spazio importante di successo. Al momento sono già numerosi i team che si sono iscritti alla gara, provengono da ben sette regioni, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Marche, Puglia e Lazio.